Gentili telespettatori, buona giornata. Il retroscena Milena Gabanelli, presidente della RAI. Io vi devo dire che una volta mi piaceva questa giornalista, la sua trasmissione sulla RAI, poi mi sono accorto della sua tendenza a sinistra, sempre più marcata, sempre più marcata. Ultimamente proprio si vede, si vede chiaro e per questo che vi dico non mi è più piaciuta. Presidente della RAI, beh, Mario Draghi si è accorto che sulla RAI ha delle difficoltà e questa Milena Gabanelli come presidente RAI piacerebbe a Enrico Letta molto. E perché, secondo voi? Proprio per quello che vi dicevo, perché la Gabanelli è schierata a sinistra. Erano circolate voci nei giorni scorsi secondo cui Mario Draghi fosse in procinto di prendere una decisione sulle nomine in RAI. Invece i tempi si sono allungati, scrive Marco Antonellis su TP, che ha delineato gli scenari riguardanti i vertici della RAI. L'assemblea dei soci, rinviata di un mese. Quindi il tentativo di Draghi è fallito, si sarebbe reso conto che sulla RAI non riesce a passare i partiti e ha bisogno di tempo per trovare un compromesso che per tutti vada bene. Riprende di nuovo adesso la cabala dei nomi, le new entry tra i nomi in pista, scrive Antonellis. Adesso c'è Milena Gabbianelli. L'idea piace soprattutto a Enrico Letta, che lo utilizzerebbe in chiave politica, strano, per rinsaldare l'alleanza nazionale che ancora stenta a decollare con il Movimento 5 Stelle. Resta però l'incognito del centrodestra. Ovviamente il centrodestra non potrà mai avvallare, perché come me ne sono accorto io, se ne sono accorti tutti che la Gabanelli è molto a sinistra. E secondo Antonellis sono i manager interni alla RAI ad avere maggiori possibilità ad ambire a posizioni di vertice. Si tratterebbe di Roberto Sergio o di Paolo del Brocco e Marcello. Ciannamea. Per garantirsi la benevolenza di Palazzo Chigi, si legge su TP, hanno rilanciato promettendo a Draghi di essere pronti a varare nei primi cento giorni quanto necessario per far ripartire l'azienda tra nomine e piano industriale. Piano industriale. La RAI lo scorso anno chiude in pareggio dopo che Conte gli regala 85 milioni di euro per farli andare in pareggio. Ma loro si vantano, abbiamo chiuso in pareggio. Prendono pubblicità, canone e soldi dello Stato e vanno in pareggio. Non sono neanche stati in grado di guadagnare un euro. Avete capito che sperpero di soldi pubblici c'è in quella televisione di Stato? I miei complimentoni. Mentre le televisioni private tutte guadagnano e fanno degli utili e lo Stato alle televisioni private non gli regala 85 milioni, lo Stato non gli passa il canone. Immaginate cosa potrebbe guadagnare una televisione privata se avesse anche 85 milioni dello Stato e il canone. Avrebbe dei redditi altissimi. Mentre lo Stato non è capace a gestire una televisione pubblica. Lo Stato non è capace a gestire l'ILVA, non è capace a gestire l'ALITALIA, non era stato capace a gestire né poste né treni, né treni Italia. Ehi, non è capace. Sono dei carrozzoni dove spendere, spandere, assumere amici, amiche, parenti, familiari, conoscenti dei conoscenti, riempire queste aziende di gente che poi, vi ricordate, il Rai andavano negli alberghi 5 Stelle a mangiare caviale e champagne, ma non ve li ricordate, no? Tipo Fantozzi, no? Fantozzi che prenotava, ho prenotato 15 taxi. Ma siamo in due. Una media di 15, una media di 7 taxi e mezzo a testa. Ecco, insomma, quella era Fantozzi, vabbè, comunque. Speriamo che non sia la Gabanelli presidente della Rai, perché, insomma, è che si vada le elezioni politiche presto, perché siamo stufi, sinceramente, di questo tipo di politica. Ecco, almeno questa è la mia idea. Intanto sulla targa sbagliata di Carlo Azzeglio Ciampi, Ci sarebbe in un retroscena l'ira di Sergio Mattarella per quello che ha combinato Virginia Raggi. Ebbè, insomma, e poi perde il lavoro un poverino che ha scritto il cartello. Ma cosa c'entra chi ha scritto il cartello? Vabbè, insomma, si dimentica una G, non è Azzelio, ma è Azzeglio. Un nome un po' difficile che si presta anche ad errori, ovviamente. Dice, come si chiama Azzelio? È Azzelio, no, Azzeglio, Azzeglio, come aglio, Azzeglio. Vabbè, insomma, diciamo che martedì 1 giugno, un momento solenne, vigilia dei 75 anni della nascita della Repubblica, una data non casuale, un po' come la veglia di Pasqua oltretevere. Vabbè, insomma, la Raggi, tutta orgogliosa per l'idea, ha chiamato Mattarella a inaugurare la nuova intestazione di un'arteria urbana dedicandola ad un amato predecessore di Sergio Mattarella, Ciampi, Azzeglio, Ciampi, appunto. Beh, insomma, diciamo che questo, secondo il retroscena, avrebbe fatto infuriare, e non poco, il Presidente della Repubblica. Insomma, c'era anche la moglie, Franca. Franca, si dice appunto che Mattarella si sia abbastanza arrabbiato parlando di un segno di una città fuori controllo. Beh, la colpa non è diretta di Virginia Raggi, insomma, ma è il lassismo, arrivi fino a questi limiti di ridicolaggine, come funziona come un game over, come la ciliegina finale sulla torta dei 5 stelle. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata, e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Siamo anche in Facebook, nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete, dove vi invito ad iscrivervi, perché le iscrizioni sono assolutamente gratuite, comportano solamente un aiuto al canale ad essere più visibile. mentre diciamo che siamo anche in TikTok e poi c'è anche l'abbonamento al canale, l'abbonamento è un qualcosa in più, un aiuto al canale, e poi c'è anche un beneficio, con meno di un euro al mese, 99 centesimi, si possono vedere almeno un video al giorno in più, quindi una trentina di video in più al mese. Vi ringrazio nuovamente, se volete tra una ventina di minuti ci vediamo, arrivederci a tutti.